Musica Osiris, siete autorizzati ad atterrare alla Tracco 11 Capitano Lasky, le ho inviato la mia posizione tre settimane fa, l'avevo avvisata Ne parleremo in privato Palmer Cosa ha fatto? Fin dove si è spinto? Ben fatto Osiris Tu che cosa ne pensi? Tu che cosa ne pensi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. La squadra blu ha individuato Argent 1. Sei in me di attività ostile, ma lei è ancora qui. Ricevuto un 1-7. Eliminare i nemici su Argent 1. Preparatevi e schieratevi. Affermativo infinitivo. Passo e chiudo. Tenga. Grazie a tutti. Tutti pronti? Affermativo. Stai bene. Squadra blu. Andiamo. Gli Angoi resistono. Montate fuori bordo gli Angoi. Grazie a tutti. Breccia nello scafo, arginata. Ripressurizzazione aree completata. Cosa sappiamo di Argentbon? Stazione Oni. È inattiva da 19 mesi. Settimana scorsa i Kigiar l'hanno trovata e rivenduta al gruppo di Julem Dama. Eliminiamo il Covalent e rendiamo la stazione all'Oni. La via più rapida per recuperarla è prendere il comando centrale. Eliminate i nemici fino a lì e disattivate i sistemi di gravità e di supporto vitale. Il centro dati della nave è qui avanti. Scarichiamo la pianta di Argentboni. La via più rapida per recuperarla. La via più rapida per recuperare il corso dell'Oni. Capita per recuperare il corso dell'Oni. Capita per recuperare il corso dell'Oni. pare progettassero un belicolo di classe stealth hanno perso anni di ricerca con questa stazione muovetevi squadra lo sasso nemico uccisione preca perete morti Il centro dati è qui avanti, andiamo. Il fronte è stato eliminato. Obiettivo alleato. Centro dati. Abbiamo un set di codici datasek per la stazione. Possiamo scaricare la pianta di Argent Moon e trovare una via per il comando centrale? Accesso, banche dati. Scaricate dati e mappa demografica. Dal cantiere di assemblaggio il comando centrale sembra sempre dritto. Ci sono ancora dei prowler negli hangar. Nessuno dell'Onine è uscito vivo, vero? No. Andiamo. Ascensore. Muoviamoci. Comando centrale dritto dopo l'aria. Hanno fatto tutto a pezzi. Questi smantellino la nave sperimentale per i componenti. Sciacalli. Sacchieggiano tutto. A quanto pare la guerra dei Covenant contro l'Arbiter non sta andando bene. Julem Dama è molte cose. Ma non un profeta. La via diretta per il cantiere passa per quel muro. Sfondiamo. Contatto. 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 Sì, mi stai bene. Guarda, sono brutti. Mi ha ferito uno. Mi fai fuori io. No! Granata! Che mi, aspartame. Aria scombra! Un'idra qui. Un'idra qui ! Un bambino. Un bambino. Un pied est mort. UnSwap. Un'idra qui ! Un bambino ! Un bambino ! Un bambino ! Oh no! Oh no! Tutti a terra. Procediamo verso il comando centrale. Comando centrale segnalato qui, oltre quelle porte. Comando centrale segnalato qui. Comando centrale segnalato qui. Rapporto. Sierra 117, a squadra blu. Rapporto. Sierra 117, mi sentite? Rapporto. 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 Grazie a tutti. Chief, il dominio è aperto. Ora, tocca al Meridio. Cortana? John, la reclamazione sta per iniziare. Chief, che succede? Lei è su Meridion? Chi? Cortana. Cortana.